Buonasera e benvenuti a Primo Cittadino, il programma di Fano TV che vi mette in contatto diretto con i sindaci del nostro territorio. Questa sera sono in compagnia della senatore Palmiro Occhielli, sindaco di Vallefoglia. Buonasera sindaco. Buonasera. Ricordo intanto a tutti i nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando come sempre 0721 86 14 33 ma potete inviarci anche un messaggio pure con whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco iniziamo dall'inizio, i cittadini di Vallefoglia lo scorso mese di maggio sono stati chiamati per recarsi alle urne, l'hanno riconfermata sindaco con il 60% circa. Lei aveva questa volta due liste contro, il Movimento 5 Stelle e il centrodestra. Che cosa ha fatto? Ha deciso poi di riconfermare quattro assessori su cinque addirittura con le stesse deleghe. Come mai questa scelta? Squadra che vince non si cambia? Mi pare che sia abbastanza normale che se si vince in quel modo diciamo che la gente ha riconosciuto le cose che abbiamo fatto, per me è stata anche una soddisfazione personale perché insomma veramente un consenso al di là di ogni misura. E poi la nomina un vice sindaco, una giovane donna e quindi diciamo una ricomposizione anche di un'area abbastanza importante che diciamo ha dato prova di lavorare meglio che fosse possibile per diciamo la comunità, a prescindere dalle vecchie appartenenze politiche e poi diciamo anche il rapporto con la comunità era stato un rapporto importante, si è stati sul pezzo come si dice per cinque anni senza quasi mai alzare la testa e la gente l'ha apprezzato. E questo dà grande soddisfazione a chi fa il sindaco ma anche alla squadra che lavora sia in giunta che nel Consiglio Comunale. Tra gli obiettivi della nuova legislatura ci sono sicuramente i rapporti con gli altri comuni ma anche meno burocrazia, i giovani al centro insomma dell'attività dell'amministrazione comunale, sicurezza e tanto altro. Ma andiamo con ordine, partiamo dal rapporto con gli altri comuni, Valefoglia è al centro di una vallata importante, rappresenta anche uno snodo importante per quanto riguarda la viabilità. Valefoglia è al centro di una vallata di quasi 200 mila abitanti che va da Pesaro al confine con la Toscana, Belforte Alisauro, è una città, la terza città della provincia di Pesurbino, è al centro di un'area di oltre 50 mila abitanti con circa 5-6 mila imprese, sono 16 mila nel comprensorio pisarese ed è un'area a confine con il nord delle Marche, il sud dell'Emilia Romagna, i rapporti nella parte interna dell'alta valle del Foglia con la Toscana e con l'Umbria e quindi diciamo uno snodo abbastanza importante, abbiamo cercato di mantenere rapporti positivi con tutti i comuni, con tutte le regioni, con le province confinanti e soprattutto diciamo una vallata che ancora mantiene una forte caratteristica anche dell'agricoltura, che è la prima vocazione di quella vallata, città industriale, città importante, una città che ha una forte immigrazione dall'Italia e dal mondo e ha diciamo una forte integrazione tra ragazzi, ragazze e le persone più grandi, come le chiamiamo noi, faremo una festa dei grandi anche quest'anno, al Morsola Sporting, di 500-600 persone, sono quasi una quarantina oltre novantenni, quindi si vive bene, si vive a lungo ed è un territorio che cresce e conquista la sua centralità, perché Valle Foglia è il risultato della fusione di due ex comuni, Sant'Angellisle e Colbordolo, e che fanno una città nuova, una città che ha tutti i requisiti per diventare sempre più grande e l'obiettivo è anche quello di avere un sistema infrastrutturale che colleghi la città con la costa, che colleghi la città con la Pesolo Urbino Grosseto, più nota come Fano Grosseto, cioè Adriatico e Tirreno, che colleghi la città con la Valle del Conca, verso il Casello di Cattolica, e che abbia un sistema anche di mobilità, inserendoci un po' nel dibattito che c'è stato tra Pesolo, Fano, Urbino, sulla ferrovia, noi pensiamo che quella ferrovia possa avere un anello, un collegamento, che scende nella Valle del Foglia, ritorna a Pesolo e così via. Quindi diciamo un centro molto importante, forse una delle ragioni per le quali hanno voluto riconfermare in toto questa amministrazione è anche l'esperienza, siamo quasi tutte persone d'esperienza, sono diversi anche ragazzi giovani, giovanissimi, nel Consiglio Comunale, quindi un trade union forte, questo patto generazionale, abbiamo tre centri di aggregazione intergenerazionali, abbiamo dato un taglio culturale proprio di forte passaggio tra generazioni. La storia dei radici... Come giusto che sia, comunque. Sindaco, la interrompo perché abbiamo una persona che vorrebbe parlare con lei. Sentiamo che c'è il telefono. Buonasera. 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 Buonasera, senatore. Prego. Le volevo chiedere qui, senatore, per quanto riguarda lei il punto di riferimento per la Polizia Locale di Pesaro e del Consorzio, le volevo chiedere, c'è una graduatoria in essere del Comune di Pesaro, le chiedevo delle assunzioni prossime che può fare questo Consorzio attingendo a questa graduatoria e se verrà esaurita portata a termine, perché visto che sia rimasti circa una decina di persone idonee e agenti che hanno già lavorato a questa amministrazione. Sì, la Polizia Locale dipende dall'Unione, è una delle tre funzioni che il Comune di Pesaro ha delegato all'Unione dei Comuni, sono un centinaio e passa di vigili, hanno una funzione importante perché le funzioni dei comuni cosiddetti minori erano molto limitate, un po' come i carabinieri, le 3 alle 4 del pomeriggio non c'era più un servizio, oggi grazie a quel rapporto abbiamo una vigilanza che va fino all'uno e mezza di notte che è molto importante nel rapporto con i carabinieri, con le altre polizie dello Stato. Noi abbiamo deciso di fare delle assunzioni a mano a mano che vanno in pensione, sono 4-5 assunzioni adesso a tempo pieno e poi degli stagionali, tutti da quella gradatoria finché quella gradatoria andrà a disavolimento. Ma assunzioni anche a breve? Quindi sì, a breve, quindi tutte le assunzioni che faremo le prenderemo da quella gradatoria. Aveva un'altra domanda? Non è più in linea. Andiamo avanti ma c'è anche un'altra telefonata per lei, andiamo con il secondo punto, meno burocrazia. Io sono, come tutti sanno, nemico giurato della burocrazia. La semplificazione, la trasparenza, la velocizzazione dei provvedimenti è una delle caratteristiche dell'azione di governo della città di Vallefoglia. Cito solo due casi che sono però le aziende emblematiche, c'è Rivagold e la Fab che lavora per l'IKEA, sono due aziende che hanno più di un migliaio di dipendenti e che hanno previsto un ampliamento e l'abbiamo fatto attraverso lo sportello unico per le attività produttive a velocità supersonica. Penso che questo debba essere, chi ha il coraggio oggi di fare impresa va aiutato, semplificando, eliminando, da noi la burocrazia è quasi a zero, però bisogna togliere anche lo zero, perché bisogna lavorare per la comunità, per i cittadini, per le imprese, per far crescere la comunità e farla ritornare alla piena occupazione. Quindi quelli che sostengono questa tesi sfondono una porta aperta nel programma di governo approvato dal Consiglio Comunale e le linee programmatiche di mandato, uno dei punti principali è togliere quel po' di burocrazia che è rimasta, sburocratizzare il Comune, semplificare e accelerare le procedure, velocizzarle. Abbiamo un'altra telefonata per lei, sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera, saluto cordialmente il senatore Rucchielli. Buonasera. Le volevo fare una domanda sulla viabilità del nostro entroterra. Dunque io passo spesso nella strada che da Monbaroccio va a Sant'Angelo in Lizzola, per cui nel suo comune. Come lei avrà visto è una strada dissestata, è anche molto poricolosa. Penso che la competenza non sia sua, perché c'è la provincia, c'è il comune di Montecicardo e quant'altro. Però, poiché lei è stato sempre vicino a questi problemi, ed è un sindaco che si dà molto da fare per le esigenze del territorio, la vorrei invitare a sollecitare le autorità competenti per sistemare questa strada che è a livello di Far West. Grazie. Grazie per la segnalazione. Sindaco, si può adoperare in tal senso? Sì, certamente le strade, come si sa, sono dello Stato, quelle autostrade, la società autostrade, e sono quel caso che ha segnalato questo signore, che ha perfettamente ragione, e della provincia di Pires Urbino. Non sto a sottolineare tutta la demagogia che si è fatta sulle province, togliendo gli soldi, e non sono nemmeno in grado oggi di fare la manutenzione delle scuole e delle strade. pur tuttavia, ecco, il compito del sindaco è quello anche di segnalare alle altre istituzioni i problemi, alla provincia, alla regione, allo Stato, a tutti quelli che hanno competenze, alle società di gestione, tipo ANAS, tipo Consorzio di Bonifica, tipo ASPE, tutte le strutture con le quali noi abbiamo a che fare. Quindi io invio molte lettere, tante delle quali non le rendo nemmeno pubbliche, però dove ci sono problemi, questa strada per Sant'Angelo, ma anche quella per Tavuglia, ho avuto modo di segnalarla, e spero che in questa legge di stabilità mettono un po' più soldi per le province, per fare una manutenzione ordinaria, straordinaria, più efficace, per rendere le strade più sicure. Bene, sindaco. Andiamo avanti. Parlavamo prima di giovani, ma una centralità, c'è anche l'occupazione, la formazione, come state lavorando? I giovani non è facile renderli protagonisti, però è l'obiettivo principale, cioè rendere protagonisti le nuove generazioni e metterle in tradunione con le persone più grandi. Le persone più grandi hanno tante cose da raccontare. Il primo obiettivo è formare, noi abbiamo il Centro per l'impiego a Pesero, il punto di formazione al lavoro, la Morciola. Ma anche i fondi dall'Europa potrebbero essere fondamentali. Certamente, infatti arrivavo proprio lì, i fondi dall'Europa sono tanti, per formare i giovani e collocarle per la prima volta nel mercato del lavoro, perché il primo obiettivo, un giovane che vale in forma giovane, va per cercare lavoro. E poi, diciamo, sul piano culturale. Noi stiamo realizzando, ultimiamo i lavori del Teatro Branca, lo rimettiamo a norma a Sant'Angelizio, lo stiamo facendo in un teatro nuovo, perché i giovani devono avere in primo luogo il lavoro. Poi, conoscere la storia, le radici di questa comunità e fare in modo che possano avere appunto una formazione adeguata, perché quando escono dalle scuole possono trovare il lavoro. perché quando c'è lavoro ci sono meno problemi sociali, c'è meno delinquenza organizzata, perché è chiaro che se uno è fragile sul piano sociale, se ha difficoltà del lavoro, è più facile preda per la malavita organizzata. E quindi i giovani vanno aiutati, sostenuti, anche perché i giovani sono il futuro di questo pianeta. Non è un caso che, diciamo, la questione del stato di salute del pianeta sia sollevata da una ragazza di 16 anni. Io ho un consigliere delegato alle politiche giovanili, che ha poco più di 20 anni, che è consigliere, e che appunto tiene i rapporti con le nuove generazioni. Però i giovani sono lo sport. Per esempio, noi abbiamo una quantità di impianti sportivi che fa invidia anche alle città più grandi, come Piso e come fanno. Anzi, spesso e volentieri, ospitiamo anche queste città che hanno necessità di impianti sportivi, di palazzetti dello sport, di palestre, di campi da calcio, perché la comunità deve essere solidale anche tra le città, tra i territori. Quindi i giovani sono prevalentemente impegnati nello studio, nello sport, nella cultura, e bisogna prima di tutto fare di tutto utilizzando al meglio i fondi europei per collocarli nel mercato di lavoro. Poi ci sono un po' quelli meno giovani, circa 40 anni, che magari hanno avuto un primo approccio col lavoro e che hanno perso il lavoro, o 45 anni o 50 anni, che devono essere ricollocati nel mercato di lavoro, quindi bisogna utilizzare al meglio i soldi della formazione per creare lavori per occupazione, perché l'obiettivo principale è far crescere la città e ritornare alla piena occupazione. Poco fa citato anche la malavita organizzata, io vorrei farle rivedere delle immagini che i nostri operatori hanno girato terribili, che riguardano l'incendio che ha interessato la fabbrica di mobili top line di Talacchio. Ed è rimesso il tema della sicurezza, non solo per l'importanza di una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, ma anche per una preoccupazione appunto su eventuali contatti con la criminalità organizzata. tant'è che ha scritto alla Direzione Nazionale Antimafia. Il problema della sicurezza è di un sistema economico e produttivo sano, che non ha infiltrazioni malavitose, è uno dei temi da salvaguardare e su cui noi abbiamo già, dall'inizio dell'altra legislatura, ma è un po' mio pallino quando ho avuto ruoli anche di carattere provinciale nella mia precedente esperienza di Presidente della Provincia convocammo tanti comitati per la sicurezza insieme al Prefetto, anzi approfitto per dire che domattina ci sarà una presenza del Prefetto in Comune, il Consiglio Comunale, Sant'Angelo in Linsa, di Vallefoglia, per fare il punto su queste questioni insieme al sistema produttivo, cioè a tutte le associazioni di categoria, perché l'obiettivo principale è salvaguardare un'economia sana che non ha infiltrazioni malavitose. Io spero tanto che questi incendi che si sono verificati non solo a Vallefoglia, per la verità, perché in passato ci sono stati incendi di questo tipo a Tavuglia, a Montalabate, nei comuni confinanti. Quella è un'area molto, molto appetibile, perché è ricca, ha meno poliziotti di peso refano e quindi è anche meno controllata, diciamo, dal punto di vista della presenza dello Stato e anche della polizia locale. C'è stata un'attenzione nuova, devo dar atto anche a questo Prefetto nuovo che ha capito al volo che quell'area va sorvegliata di più e meglio e speriamo che questi incendi non siano incendi dolosi, perché sarebbe un problema. Non è un caso che io ho scritto al Ministro degli Interni, al Ministro della Grazia e Giustizia, alla Direzione Investigativa Antimafia, perché i fenomeni è meglio prevenirli piuttosto che curarli. Assolutamente sì. Ricordo anche che lei, proprio per la possibilità che ci siano delle sostanze inquinanti, aveva firmato un'ordinanza per la chiusura di porte e finestre. È stata revocata o ancora in vigore? Ma la prima ordinanza l'abbiamo revocata dopo una quindicina di giorni, perché abbiamo chiesto all'ASUR e all'ARPAM di fare tutti i superluoghi per verificare quali erano, diciamo, che tipo di livello di inquinamento atmosferico c'era e se c'era. Quella è stata revocata, non c'era, diciamo, un livello di inquinamento, perché non c'erano Eternit e non c'erano altre sostanze. Questa stiamo aspettando. Io spero a giorni che arrivi la lettera dell'ARPAM, dell'ASUR, che dica che non ci sono stati problemi, anche per quel che riguarda la raccolta dell'uo, la raccolta delle olive, diciamo, gli ortaggi e così via. c'è stata anche la pioggia e così si possa ritornare al massimo di tranquillità, di serenità anche da quel punto di vista. E anche in tutta sicurezza. Devo dire che lei spesso si rivolge anche allo Stato. Ricordo che recentemente aveva scritto anche il ministro dell'interno Matteo Salvini, ora si è rivolto di nuovo al governo per chiedere l'attuazione del provvedimento di espulsione nei confronti di Sana Alla, ma la madre 46enne di quei due ragazzi che sono stati arrestati e condannati per uno stupro di gruppo a Rimini nell'estate del 2017 ai danni di una turista polacca e di una transessuale peruviana. Quindi insomma lei è tornato a ribadire questa esigenza. Ma il rapporto di un comune, di una città e con la provincia, per le competenze che è rimasta la provincia, veduti pensano che sia abolita, ma non è abolita, non c'è più l'elezione diretta del Presidente della provincia, ma la provincia c'è, ha alcune competenze sulle edilizie scolastiche, sulle strade e sulla pianificazione urbanistica e territoriale. E abbiamo a che fare nel rapporto con la Regione per tanti temi, con l'Europa e con lo Stato nazionale, con i ministri, ovviamente devi interloquire. Il fatto che ci sia un decreto di espulsione di questa signora da oltre sei mesi fa perdere credibilità allo Stato, allo Stato centrale, al Ministero degli Interni. Bisogna dar corso a quel ricongiungimento del nucleo familiare col marito che allora, col Ministro Minniti, fu rinviato, insomma, nel proprio paese e sarebbe meglio per loro perché il ricongiungimento del nucleo familiare marito e moglie e due minorenni che attualmente stanno con la madre e che costano, costano allo Stato perché lo Stato ci ha obbligato a mettere in una comunità, abbiamo preso una comunità, quella più economica, che spendiamo circa 50.000 euro rispetto ai 100.000 previsti, ma è un compito che noi faremmo volentieri a meno e che lo Stato, se ci obbliga e non è in grado di far rispettare un proprio decreto di espulsione, ci dia i quattrini, almeno. Noi pensiamo che non ci debba dar nulla perché debba fare il ricongiungimento del nucleo familiare in Marocco, perché sta meglio loro e stiamo meglio noi. Anche perché questi soldi appunto vengono tolti dalla comunità. Sì, perché non è che ci danno dei soldi aggiuntivi, ci impongono di tenere la madre con i due figli in una struttura protetta a spese del comune, quindi se ci impongono siano spese dello Stato, ma siccome non devono essere spese dello Stato perché sono sempre i cittadini che pagano, si faccia il decreto di espulsione, si dia corso al decreto di espulsione con le forze dell'ordine e come era in quel film sono più contenti loro e più contenti anche la nostra comunità perché di ospitare personaggi di questo tipo facciamo volentieri a meno. Cambiamo decisamente argomento, iniziamo a parlare di lavori pubblici perché ci sono tanti finanziamenti in campo, partiamo dai lavori appaltati, quindi la pista pedonale è ciclabile. Ma i lavori pubblici sono tanti, diciamo che vanno di pari passo e fanno da pandan con quelli privati perché c'è un ampliamento di queste due aziende che ho prima citato, di altre aziende che vanno bene e che vogliono fare ulteriori ampliamenti e c'è una marea di opere pubbliche, solo l'asta fluviale, sono circa 30 milioni di investimenti nei due depuratori che sono tutti e due per la vallata del Foglia, quello di Montecchio di Vallefoglia per circa 15 milioni e circa la quindicina di milioni a Borgheria. Poi c'è un finanziamento che dovrebbe iniziare a breve di 400 mila euro per il consolidamento del monte di Montecchio, ci sono finanziamenti per la pista pedonale ciclabile di circa 500 mila euro che unisce diciamo Montecchio con Bottega e diventa un po' tutt'uno, Capone, Morciola, Bottega e Montecchio 13 mila abitanti su 15 mila e poi stiamo appaltando il nuovo campo sportivo in sintetico, il secondo campo sportivo in sintetico, il teatro, il comune, stiamo ultimando i lavori del teatro Branca Sant'Angelo in Lissola, quindi nell'anno prossimo noi alla fine dell'anno avremo teatro Branca disponibile per le attività teatrali, per ogni tipo di attività e il prossimo anno inaugureremo Comune Nuovo, Teatro Nuovo, a primavera inaugureremo diciamo il campo sportivo nuovo, entro l'anno se tutto fila liscio inaugureremo la nuova pista pedonale ciclabile, con Marche Multiservizi stiamo per diciamo ultimare i progetti che fa Marche Multiservizi per la metanizzazione di tutta la parte collinare del Comune di Vallefoglia, Montecolbordolo e Montefabri, depurazione e metanizzazione per un paio di milioni di euro di investimenti. Poi stiamo interloquendo appunto come lei ricordava con la Regione, col Ministero per le Infrastrutture, per le risorse per la modernizzazione delle due vallate, la vallata dell'Apsa, la Pesero Urbino Grossetto e la vallata del Foglia, la Pesero Lunano, Sant'Angelo Invado Grossetto. Intanto ringraziamo la Regione, il Ministero per le Infrastrutture per le risorse che ha messo per gli asfalti che già hanno messo parecchi soldi per la messa in sicurezza di quella viabilità. Poi stiamo interloquendo con il Ministero dell'Ambiente e con la Regione per il contratto di fiume perché sono lì altre decine di milioni di euro di investimenti e se consideriamo che il Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico, i centri per l'impiego, la formazione professionale si possono avere un bel pacchetto di risorse per favorire le imprese tra virgolette che vogliono diciamo fare un'attività che colloca i giovani e le nuove generazioni come energia pulsante formidabile per la competizione internazionale. quindi sono molti milioni di euro di investimenti in una vallata che è una vallata molto ricca piena di imprese che hanno una dimensione internazionale e poi teniamo i rapporti anche in una dimensione internazionale noi siamo gemellati con la città di Valmiera in Lettonia con la città di Dignano in Istria Croazia stiamo costruendo un rapporto economico con Durazzo che è una città di 120-130 mila abitanti dell'Albania sono molti cittadini anzi la prima comunità di Vallefoglia straniera per così dire non italiana e sono albanesi molte imprese nostre hanno già rapporti con l'Albania che aveva un periodo di boom economico abbastanza importante e siamo in contatto con un comune austriaco che ha avuto rapporti durante le vicende drammatiche della guerra e quindi cerchiamo di dargli una dimensione anche internazionale alla città di Vallefoglia Sindaco ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo qua a trattare tanti altri temi a fra poco Bentornati in diretta a Primo Cittadino siamo ancora in compagnia con il sindaco di Vallefoglia a loro occhielli continuiamo a trattare diversi temi lei ha scritto si è rivolto anche al ministro dell'agricoltura per creare un polo dedicato appunto alla promozione di questo settore sì in quella vallata era nata una struttura importante di circa 400 agricoltori che avevano dato vita a questa cooperativa che è tuttora diciamo in funzione che ha una dimensione regionale e che era una struttura di produzione del vino di tutta la vallata e attualmente noi nel piano regolatore già approvato avevamo previsto che questa struttura possa essere una struttura di supporto anche potenziata valorizzata con i fondi europei per diciamo una struttura non solo per la vendita dei prodotti locali di tutta la vallata che è una vallata che ha ancora migliaia di imprese agricole per fortuna per un'agricoltura di qualità per aumentare e migliorare la qualità dell'alimentazione rispetto a quella tradizionale può essere anche un luogo di ricerca insieme magari all'università di Ancona alla facoltà d'agraria e diciamo a questo proposito abbiamo già convocato una riunione tutte le associazioni agricole del Consorzio di Bonifica della Svim che è la società di sviluppo delle marche della regione per vedere come diciamo studiare un progetto che ci consenta di utilizzare i fondi europei e anche lì diciamo valorizzare molti giovani che hanno scelto l'agricoltura di ritornare in agricoltura perché vivono all'aria aperta respirano l'aria buona ma c'è un problema di reddito e questo consentirebbe di avere una vendita diretta di prodotti di maggiore qualità e di avere un maggior reddito quindi sarebbe importante e anche mantenere una parte dell'economia di quella economia che era l'economia della vallata una volta che era l'agricoltura l'agricoltura mantiene un ruolo importante territorio è un territorio fortemente industrializzato però noi pensiamo anche all'ambiente il paesaggio la storia alla cultura alle rocche ai castelli perché vorremmo far diventare un pezzo del sistema economico e produttivo anche l'ambiente il paesaggio il turismo che non era una cosa di quel territorio perché era prima tutto agricolo e poi tutto dei mobilieri oggi abbiamo un'economia molto diversificata abbiamo la lavorazione del vetro abbiamo la lavorazione della refrigerazione abbiamo industrie metalmeccaniche abbiamo la lavorazione del ferro abbiamo diciamo un'economia diversificata che forse ci consenta anche di reggere meglio in questo periodo di crisi economica Sindaco ci sono anche due frani importanti che sono da sistemare diciamo che una delle questioni è anche quello dell'assetto idrogeologico quel signore quel cittadino che ha chiamato prima per la viabilità di Sant'Angelo se uno viene su Sant'Angelo va per Montbaroccio Monticicardo se va da Montecchio per Tavuglia se va verso Belvedere cioè la provincia in definitiva penso di conoscere l'abbastanza bene è tutto un movimento franoso perché è una provincia bellissima ma il territorio è diciamo abbastanza franoso noi abbiamo sistemato due frane che vanno per via col Delce uno dei polmoni ambientali ecologici più belli dove in cima c'è anche una dependenza diciamo dell'osservatorio Valerio un punto di avvistamento importante e diciamo la prima e seconda frana molto ben sistemate con quasi 200 mila euro di investimenti e un'altra su Sant'Angelo la zona del campo sportivo che serve anche per migliorare la situazione dell'utilizzo del campo sportivo quindi la manutenzione idraulica del territorio noi abbiamo fatto un manifesto con 10 punti per come bisognerebbe fare non voglio ritornare al passato ma quando c'erano i contadini cosa facevano la manutenzione del territorio la pulizia dei fossi la potatura delle piante cioè mantenevano un territorio che quando arrivava la stagione invernale non dico che tutto filava liscio ma c'erano i fossi ben puliti non c'erano le piante che quando fa una pioggia abbondante cadono nelle strade quindi diventano pericolose insomma la manutenzione idraulica del territorio è uno dei punti importanti su cui toccherebbe pensarci un po' di più e un po' meglio quindi anche queste frane per una sono stati stanziati questi 90 mila euro quella a Sant'Angelo in Lizzola adesso nel giro di qualche mese si riuscirà a intervenire ma io penso di sì le altre prime due le abbiamo già sistemate questa penso che prima dell'inverno se tutto fila liscio prima dei temporali del tempaccio insomma dovremmo se troviamo una ditta in gamba non sistemarla prima dell'inverno se ce la facciamo lei sindaco si è rivolto anche al neoministro dei trasporti per chiedere un doppio studio di fattibilità per quanto riguarda la metropolitana di superficie crede che possa essere utile per il territorio avere questo studio di fattibilità poi eventualmente una metropolitana di superficie ma noi pensiamo che diciamo come avverrà perché c'è già il Consorzio di Bonifio che ha dato la disponibilità a fare uno studio su questa struttura di supporto all'agricoltura si possa invece di continuare questa carella e questo dibattito sulla chiusura o meno sulla pista pedonale ciclabile la pista pedonale ciclabile Fano-Urbino parallela alla ferrovia l'hanno progettata qualche anno fa quando io ero assessore dei lavori pubblici in provincia quindi è passato un po' di tempo io l'idea nostra è quella di vedere a fianco all'attuale viabilità in questo percorso Pesero Fano Fossombrono Urbino Montecchio Vallefoglia Pesero la viabilità quella tradizionale un sistema di piste pedonali ciclabili sono circa 100 km e una metropolitana leggera fuoriterra che consenta anche il transito delle merci oltre che dei passeggeri perché vorrei ricordare che quella vallata del Metauro la vallata del Foglia c'è un buon 80% dell'economia della provincia di peso urbino quindi valutare se regge dal punto di vista del calcolo economico fare un'operazione di questo tipo o fare diversamente una struttura leggera tipo filobus nel senso che c'è anche un problema ecologico ambientale questo pianeta non finisce bene se non abbiamo provvedimenti seri e quotidiani cioè la riduzione dell'inquinamento atmosferico perché se le persone che vanno a lavorare le persone che vanno a studiare salgono nell'autobus o salgono nel treno la metropolitana leggera o il filobus e non vanno via ognuno con la propria macchina forse riduciamo ad un buon 50% gli incidenti molti dei quali anche mortali e riduciamo del 50% l'inquinamento atmosferico perché ormai diventa un problema nelle aree produttive anche questo e quindi bisogna pensarci quindi verrebbe utilizzata secondo lei eventualmente secondo me verrebbe utilizzata bisogna vedere se è conveniente un'operazione del genere i costi perché deve essere naturalmente sostenibile anche dal punto di vista finanziario galleria della guinza altro elemento importante ma la galleria della guinza sono passati troppi anni tutti i governi sono alternati hanno detto si fa bisogna cominciare i lavori bisogna finanziare però insomma la gente se si vuole recuperare la fiducia quando si dice una cosa deve essere quella perché la gente ha votato così in massa la mia amministrazione perché noi abbiamo detto delle cose l'abbiamo fatta il triplo di quelle che avevano detto la prima legislatura e siamo partiti con un ritmo così veloce e la gente sa che se diciamo una cosa la facciamo allora la galleria della guinza il collegamento adriatico-tirreno non è un problema di Vallefoglio di Fano di Pirro è un problema delle marche del centro Italia quindi bisogna cercare di renderla funzionale evitando di dare un'idea che rimane una cattedrale del deserto quindi prima ci mettono le risorse e si rende funzionale meglio è beh certo sicuramente andiamo avanti privo di fondi è stato chiuso purtroppo il centro anziani tempo vivo si può fare qualcosa che cosa è successo tempo vivo che era stato chiuso per una mancanza di fondi sì dunque lì è una cooperativa privata che aveva aperto sollecitata anche da noi questo centro diurno esatto che va dal mattino diciamo alla sera e che per noi è importante l'auspicio è che possa riaprire quanto prima so che c'è una delibera della giunta regionale che in parte finanzia il costo di chi porta un genitore uno zio un nonno in quella struttura c'è previsto un centro diciamo di coesione sociale per malati di alzheimer per malati autosufficienti non autosufficienti in palosette dello sport per persone diversamente abili in quello di Vallefoglia in località Psella di Vallefoglia un investimento di 50 milioni di euro per 170 posti di lavoro privato però convenzionato con il comune i residenti di Vallefoglia avranno il 20% di sconto sono già partiti i lavori e quindi la risposta per questa struttura diurna che speriamo possa riaprire quanto prima e la risposta alle persone più grandi come le chiamiamo noi piuttosto che vecchi o anziani che sembra un poco rispetto per una persona che ha dato tanto nella vita e che diciamo possa essere un punto di riferimento per tutta la vallata perché o si va a Pelzano o si va a Urbino o si va a Fano o si va a Macerata Feltria o addirittura nell'altra vallata manca una struttura di questo tipo noi vorremmo dare due risposte importanti sono tutte e due private convenzionate e però sono tutte e due importanti certo se la regione mette una parte importante la retta per quelli che sostengono cioè le famiglie è molto più più bassa è molto più sopportabile la vostra amministrazione comunale ha deciso anche di sostenere economicamente due gruppi musicali si tratta del corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordolo ma anche la corale i cantori della città futura quindi insomma credete anche in questo tipo di promozione culturale ma è una struttura storica quella che si continua a chiamare impropriamente banda musicale comunale in verità sono tutti quasi diplomati laureati conservatorio di musica Rossini sono tre maestri tutti e tre prestigiosi uno giovanissimo gli altri due un po' meno giovani e poi un coro della città futura di Pian del Bruscolo perché così si chiama è importante anche di molti volontari molti diciamo meno giovani diversi giovani donne uomini insomma una cosa abbastanza importante quella parte del territorio ha bisogno di un salto di qualità dal punto di vista culturale quindi l'idea di fare un teatro nuovo di 336 posti a bottega di Vallefoglia che farà da 3 di unione entrerà nella rete dei teatri marchigiani il teatro branca quello si chiamerà il teatro Giovanni Santi il teatro branca a Sant'Angelo in Lissola le attività musicali si è aperto un altro gruppo musicale a Morciola l'altro ieri è importante tutti i ragazzi giovani giovanissimi quindi la musica al teatro le compagnie dialettali sono due compagnie dialettali è un territorio che si sta arricchendo anche sul piano culturale e che sta riscoprendo le sue radici che erano radici io vorrei ricordare importanti è nato a col bordo di Vallefoglia Giovanni Santi padre di Raffaello il conte Pacciotti Montefabri che è un gioiellino d'architettura militare era uno dei grandi architetti militari del nostro paese anche in Europa e Terenzo Mamiani c'era proprio visto un convegno questa mattina organizzato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Pesero ministro del governo Cavour deputato senatore filosofo Costanza Monti Giulio Perticari personaggi di caratura nazionale e internazionale e poi i rapporti con Pesero Urbino e perché no anche con la città di Fano perché pensiamo che lavorare insieme collaborare insieme in queste due vallate e noi poi siamo al centro della vallata del Foglia e quindi abbiamo sottoscritto un accordo con Pesero Urbino una chiesa di Sant'Egidio a Sant'Angelo in Lista dove realizzeremo nel 200 anni della morte di Giulio Perticari 2022 un museo che è il terzo dopo il museo dell'agricoltura nel mulino di Pontevecchio dopo il centro culturale Giovanni Santi a Colbordolo il museo delle muse delle ninfe a Colbordolo un centro culturale importante che ci lega fortemente a Pesero e a Urbino per esempio Papa Albani nato in Albania e il rapporto anche con l'Albania con Durazzo che poi è transitato a Venezia poi a Urbino poi Roma ci lega a Pesero e a Urbino fortemente quindi legami con Rossini di Giulio Perticari di Giovanni Santi con Urbino e Raffaello con Papa Albani insomma è un tre d'union molto forte con Pesero e Urbino e poi stiamo lavorando perché siamo nella stessa union dei comuni io diciamo una parte del mio tempo lo dedico anche alla presidenza dell'unione dei comuni Pian del Brusco dove c'è Pesero Monbaroccio Gabicce Gradara Tavuglia Vallefoglia la prima union delle Marche con 140.000 abitanti 16.000 imprese un territorio importante un'area abbastanza omogenea che lavora insieme come se fosse un'unica città Sindaco le chiedono se si candiderà alle prossime elezioni regionali che cosa risponde? Che c'ho da fare è stato eletto da poco adesso come sindaco però sì che c'ho da fare abbondantemente a Vallefoglia una città importante è la mia città dove vivo interlocuiremo come abbiamo fatto l'altra sera con il Presidente della Giunta Ceriscioli con il Consigliere Biancani con il governo attraverso il sottosegretario Morani c'è una sottosegretaria molto in gamba al lavoro anche a Fano quindi abbiamo due donne rappresentanti del governo però penso che quando uno è eletto debba mantenere gli impegni che ha avuto come ho sempre fatto nella mia vita e darla mano a quelli che stanno nelle altre istituzioni in questo caso nella Regione abbiamo bisogno di un impegno forte della Regione questo sì abbiamo chiesto di mettere più risorse sui temi del lavoro sulle infrastrutture sulla Casa della Salute che va rafforzata e robustita sui temi diciamo dell'ambiente e del paesaggio e della riqualificazione delle due aste fluviali in particolar modo quella del Foglio ma anche quella dell'Apsa che cosa ne pensa invece di questa nuova alleanza di 5 Stelle pensa che si possa riversare anche a livello locale ma io penso che bisognava fare un governo evitare le elezioni perché quando si elegge un'amministrazione dovrebbe essere una norma che duri 5 anni e non si può andare sempre a votare interrompere le legislature ricominciare da capo una volta con un sindaco con un altro una volta con un ministro con un altro insomma e poi penso che sarà sempre più oramai un aggregarsi di forze politiche o movimenti che hanno un minimo di omogeneità programmatica penso che ci sia molta più omogeneità programmatica fra questi due schieramenti che ha dato vita a questo governo che fra le due forze politiche i due movimenti che avevano dato vita all'altro governo e poi hanno fatto tutto da soli l'altro governo perché dopo 14 mesi io mi ricordo perché ho vissuto il primo governo Berlusconi con la Liga quando Bossi sfiduciò Berlusconi è durato 7 mesi e questo è durato 14 mesi e poi Salvini ha aperto la crisi poi tutti i governi vanno giudicati per quello che fanno quindi io faccio il sindaco non faccio il sindaco di una forza politica di un partito faccio il sindaco di una coalizione che è la lista civica che ha una forte presenza di sinistra di centro-sinistra ma anche di persone moderate e quindi chiunque sarà il governo della regione e del paese interlocuiremo per gli interessi della comunità di Vallefoglie e di questa vallata poi io c'è una mia storia politica personale che non rinego assolutamente però faccio il sindaco e quando uno è eletto sindaco deve essere il sindaco di tutti io il giorno dopo non mi ricordo più chi erano i miei avversari e faccio il sindaco di tutti grazie sindaco per essere stato in nostra compagnia speriamo di averla presto nei nostri studi grazie Palmiro Ucchielli grazie a voi grazie anche a tutti i nostri telespettatori ringrazio anche il regia Cristiana Guerra Riccardo Sora e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV arrivederci grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti.